L'Italia è un paese solidale, altro che razzista. Tre nigeriani, risultati positivi al Cina-Virus, vengono ricoverati all'ospedale militare Ceglio di Roma, una struttura di avanguardia, vengono soccorsi per verificare le loro condizioni. E che fanno questi tre nigeriani? Dicono grazie all'Italia per questa solidarietà, accolti e curati come fanno i paesi civili? No, secondo quello che riferisce la DNCronos si sono ribellati. Hanno aggredito il personale sanitario, peraltro militare, con morsi, pugni e quant'altro. Forse si sono fatti anche scudo di un minorenne bengalese e sono stati poi dopo, con l'intervento delle forze dell'ordine, evidentemente riportati sotto controllo. Avremmo detto queste cose anche se degli italiani ingrati, ricoverati in una struttura pubblica per giunto militare, avessero risposto alle cure e alla prevenzione con una ribellione violenta. Lo facciamo con motivazioni ulteriori pensando al fatto che degli stranieri, probabilmente entrati illegalmente nel nostro paese, così rispondono alla nostra solidarietà. Ed allora fa bene il governo che dà i soldi alla Tunisia per far arrivare altri clandestini tunisini o di altri paesi africani, o fa bene il presidente della Sicilia, Musumeci, che non vuole più clandestini in Sicilia e che vorrebbe cacciare quelli che sono arrivati. Stanno arrivando altre navi di miliardari, cantanti e altri pagliacci, buffoni e criminali che portano clandestini in Italia. Vanno mandati via i clandestini, le navi, le nuove carola racchete che si profilano e vanno indagati questi artisti che vogliono inquinare l'Italia e l'Europa. E a questi nigeriani del Ceglio, penso che fate le cure opportune, aspettata la quarantena, dimostrato che l'Italia è un paese civile, vadano cacciati via, perché gente incivile. Siete d'accordo con me?